Buongiorno, vi parlo dal Kamishibai di Varese Corsi. Voglio ricordarvi che fra meno di un mese, il 4 di novembre e lunedì alle ore 20.30, incomincerà il corso sul teatro Kamishibai, promosso da Varese Corsi e il teatro dei Burattini di Varese di Chico Colombo che vi sta parlando. Si tratta di un percorso lungo dieci incontri, durante il quale impareremo a conoscere ed usare l'antica arte di narrazione per immagini e parole del Kamishibai. Vi aspettiamo numerosi. Per le iscrizioni potete servirvi del sito di Varese Corsi.it. Vi aspetto numerosi. Ciao. Ciao. Kamishibai.